radio nesti la radio del nesti channel inghilterra a zero i dagli a zero al 35esimo del primo tempo stiamo mettendo in difficoltà i nostri avversari sulla destra grazie all'incursione di darmian che combina bene con candreva sono chiamati in causa adesso proprio candreva e verratti parte un passaggio rosoterra con l'ottima finta di pirlo c'è marchisio che ferma la palla prova il tiro e la palla in fondo al sacco splendida azione degli azzurri sicuramente studiata in allenamento inghilterra zero italia 1 al 37esimo del primo tempo sterling uno dei più pericolosi mette in movimento runei sulla sinistra c'è un cross si avventa sterridge e pareggia purtroppo appena due minuti dopo il nostro avvantaggio sterridge pareggia niente da fare per sirigu inghilterra 1 italia 1 al quinto del secondo tempo attacchiamo ancora e sempre bene sulla destra con candreva che affronta benz lo supera può effettuare il cross verso balotelli sul palo più lontano e segna segna mario balotelli che si flocca dopo otto mesi fischio finale dell'arbitro inghilterra 1 italia 2